Musica Una fiaccolata al furlo per Riccardo Branchini, l'annuncio della mamma del 19enne, scomparso un mese fa. Venghi a Fano, focolaio verso l'estinzione, ci si prepara alla primavera con procedure comuni in tutta la regione. Amerigo Barotti lascia il ruolo di direttore di Confcommercio Marche Nord dopo quasi 40 anni di attività, subentra con il carico protempore la sua vice Agnese Trofelli. Il consiglio dei bambini e delle bambine si amplia e si rinnova oggi a Fano, la prima seduta, con i ragazzi delle scuole medie. Musica, teatro, arte, laboratori ed esperienze alla scoperta della natura e dell'enogastronomia. Dall'11 a 17 novembre, Pesaro 2024, balla scoperta di Carto 100. Cari e personaggi tra arte, cultura, testimonianze, video inediti, ricordi ed emozioni con carta festa, carnevale di Fano e il film che da domenica sarà visibile al pubblico nei cinema della città. Tra poco in studio regista Andrea Lodovichetti e dopo il DG lo speciale anteprima del docufilm. Aspettatori allo stesso tempo interpreti e la formula del progetto pirandelliano ciascuno a modo suo che il 16-17 novembre farà tappa a Fano. Collare d'oro al merito sportivo alla bocciofila alla combattente di Fano, la consegna della massima onorificenza del CONI il prossimo 16 dicembre a Roma alla presenza di Giorgio Meloni. Buonasera e benvenuti a Occhio alla Notizia. Apriamo con la fiaccolata per Riccardo Branchini che si svolgerà sabato 23 novembre alle 20.30 con partenza dal parco La Golena alla Diga del Furlo. Ad annunciarlo in un post pubblicato su Facebook è stata Federica Pambianchi, la madre del ragazzo scomparso dal 12 ottobre scorso. Se qualcuno vuole partecipare a scritto mi può dare il nominativo. Per motivi organizzativi infatti è necessario comunicare il numero delle persone che parteciperanno. Già decine le reazioni e le condivisioni del post e i commenti di adesione. Segna un deciso miglioramento. La situazione è relativa ai casi di dengue a Fano. Attualmente si registrano 144 casi confermati, 70 probabili e 7 possibili con la curva di incidenza in costante discesa. Le ultime segnalazioni si sono verificate nei giorni 20, 22 e 27 ottobre. In Italia non è stato registrato alcun decesso ma sono identificati focolai limitati di infezione autottona in Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Toscana e Abruzzo. Attenzione è già rivolta alla primavera. Per questo oggi è stata organizzata una riunione del gruppo operativo regionale per le emergenze sanitarie in collaborazione con Anci Marche per concordare un piano di azione che comprende linee guida regionali e supporto ai bandi per le attività di disinfestazione, formazione per gli addetti comunali e le ditte che operano nel settore, monitoraggio delle zanzare con la distribuzione di trappole e campagne informative per la popolazione. Nei prossimi mesi i referenti del Gores e i funzionari competenti del Comune si incontreranno per formalizzare procedure comuni in tutto il territorio regionale. Amerigo Varotti si dimette da direttore di ConfCommercio Marche Nord dopo quasi 40 anni di attività. Continuerà a collaborare con l'associazione ma si occuperà di turismo. Sentiamo i dettagli nel servizio di Marco Lonigro. Rinuncio l'ascio in carico di direttore dell'associazione dal primo di dicembre di quest'anno. Lo storico direttore di ConfCommercio Marche Nord Amerigo Varotti annuncia le sue dimissioni che saranno effettive dal prossimo 1 dicembre, una scelta ponderata che segna la fine di un percorso professionale iniziato nel 1986 come vice direttore dell'allora ConfCommercio di Pesaro e Urbino. Un'avventura lunga 39 anni, Varotti ha contribuito a trasformare ConfCommercio Marche Nord, che oggi conta oltre 4.560 soci. Negli anni ha rafforzato la presenza dell'associazione nel settore turistico, grazie al progetto L'Itinerario della Bellezza, che in 7 anni è passato da 5 a 29 comuni coinvolti. Il direttore ha annunciato che dal 1 dicembre continuerà a collaborare con ConfCommercio, ma si dedicherà al turismo e alla segreteria di Federalberghi. C'è grande soddisfazione personale per quello che abbiamo fatto, e quindi questi tanti anni, questa vita sicuramente non è stata sprecata. Non ho nessun rammarico, abbiamo superato anche momenti difficili. Sono felice di quello che abbiamo fatto e di quello che ovviamente continuerò a fare per ConfCommercio fino a quando i dirigenti vorranno. Durante la sua gestione ConfCommercio ha anche potenziato la propria infrastruttura con l'apertura della nuova sede in strada adriatica nel 1995 e con la ristrutturazione delle sedi di Fano, Urbino e Gabicce Mare. Varotti ha inoltre ideato fondamentali servizi per i soci, come il servizio credito e il servizio di formazione professionale. In questi anni però non sono mancati momenti difficili. Il momento più basso sicuramente sono state le due vicende, quella del Covid che ha riguardato tutte le imprese, tutte le associazioni, con le difficoltà del mondo economico, e l'altro aspetto che ha riguardato soprattutto noi, questa iniziativa imprenditoriale che non è andata bene, questa del Cubo, questo tentativo voluto dai dirigenti, da tutti noi insomma, di creare un centro commerciale all'interno del centro storico, favorendo la presenza, la partecipazione dei commercianti del centro, che non ha avuto i risultati sperati, e ci ha creato anche dei problemi economici, diciamolo onestamente. In attesa di una nuova riorganizzazione, Agnesia Trufelli, già vice, sarà direttrice. Ad annunciarlo questa mattina in conferenza stampa, il presidente Angelo Serra. Credo che certamente cerchiamo di avere un rinnovamento, perché con i tempi che ci sono dobbiamo cercare di riorganizzarsi un po'. Quello che vediamo per il momento è che l'Agnese, che è il vice direttore, farà le funzioni del direttore, e per vedere di riorganizzarsi e decidere chi eventualmente un giorno riassumere un altro direttore, che porterà avanti sia la linea che il CDA di Comcommercio. Stiamo valutando, studiando, vedendo cosa possiamo migliorare, per dare sempre dei migliori servizi ai nostri associati. Un vitellino è stato sbranato da un lupo l'altra notte a Fossombrone, successo nell'azienda agricola MEI a San Martino dei Muri. Come ci ha raccontato un familiare del titolare, il vitellino ritrovato morto ieri mattina era chiuso in un recinto elettrificato e si presume che l'animale selvatico sia passato sotto la recinzione, l'abbia preso e trascinato poco distante. Il vicino di casa, che ha installato le fototrappole, è riuscito a immortalare in effetti due lupi che stanno girando proprio in quella zona. Prima seduta oggi del nuovo Consiglio delle Bambine e dei Bambini che si è allargato ai ragazzi delle scuole secondarie di primo grado. Sentiamo com'è andata nelle interviste che abbiamo realizzato al sindaco Luca Serfilippi e alla sua vice Loretta Manocchi. Vogliamo rilanciare la città dei bambini e delle bambine. Abbiamo fatto il primo incontro con la Giunta appena insediati. Oggi è il primo giorno ufficiale con tutti i bambini e le bambine, allargato anche i ragazzi e le ragazze delle medie. Quindi è un primo momento importante, partecipato, tantissimi ragazzi, perché la città dei bambini e delle bambine deve tornare a essere rilanciata facendogli diventare protagonisti della nostra città. Sapete, i bambini non hanno peli sulla lingua, ma è importante riguardare tutta la città con gli occhi e anche con l'altezza dei bambini e delle bambine. Vi posso assicurare che sapremo anche amministrare la città in maniera diversa. Quindi io ci tengo tanto e sono sicuro che come amministrazione dovremo lavorare, su questo stiamo già lavorando, per rilanciare veramente la città dei bambini e delle bambine. Quest'oggi c'è stato il primo consiglio delle bambine e dei bambini e dei ragazzini e delle ragazzine, rinnovato in termini chiaramente di componenti, perché ci sono i nuovi eletti, e anche in termini di partecipazione, perché quest'anno la novità è che sono stati coinvolti anche le scuole secondarie, quindi anche le scuole medie. Per un numero totale complessivo di 34 consiglieri, si è svolto il consiglio con la presentazione degli stessi e poi si è lavorato per sottogruppi anche in relazione e ragione dell'età. Si è spiegato loro qual è il funzionamento attraverso un gioco, quindi con delle carte il funzionamento del consiglio e poi si è parlato insieme del 20 novembre, che è la giornata internazionale dell'infanzia e dell'adolescenza. Quest'anno il fulcro, il tema, è legato all'articolo 31 della Convenzione dell'ONU, che è il diritto al gioco, allo svago e quindi al tempo libero. E con i bambini abbiamo appunto spiegato loro e insieme a loro il significato di questo importante diritto. Proprio nella giornata del 20 abbiamo chiesto, a seguito di un confronto avuto con i dirigenti scolastici, proprio in questa giornata di individuare un'area all'interno, anche vicino alla scuola, ma comunque legata alla città, dove ai bambini piacerebbe giocare, divertirsi, svagarsi e anche, perché no, sviluppare proprio un'area a loro dedicata. Lo facciamo anche attraverso la posizione di bandierine e quindi come una sorta di indicazione dell'area dove ai bambini piacerebbe assolutamente appunto svagarsi, giocare e comunque impegnare una certa area della città. Questo tipo di fil rouge, che accompagnerà un po', diciamo non solo il 20, ma un po' l'anno così consigliare, ci porterà poi a coinvolgerli in un consiglio comunale, che sarà rivolto ovviamente a tutti loro e anche agli amministratori. Quindi c'è grande entusiasmo, grande volontà di partecipazione e quindi siamo entusiasti di questo bel primo momento che si è poi concluso anche con, significando i genitori che sono tornati a riprenderli, quello che è stato oggi la prima attività. Ci si incontrerà almeno una volta al mese, in alcuni periodi anche più di una volta, per lavorare appunto insieme e si cercherà di costruire questo percorso con i nostri piccoli consiglieri. Per domani, venerdì 8 novembre, i sindacati hanno indetto uno sciopero a cui aderiscono anche i lavoratori di Adrebus dalle 5.30 alle 8.30 e dalle 17.30 alle 20.30. Sono esclusi i servizi per disabili e i servizi per le scuole materne ed elementari. L'ufficio informazioni e le biglietterie potrebbero sospendere il servizio per l'intera giornata. Dall'11 al 17 novembre sarà a Cartoceto il nuovo protagonista di 50x50, Capitalia al Quadrato, il progetto simbolo di Pesaro 2024. Tanti gli appuntamenti tra musica, teatro, arte, laboratori ed esperienze alla scoperta della natura e delle eccellenze no gastronomiche. È forte anche il coinvolgimento delle giovani generazioni. Gli appuntamenti sono tanti e diversificati. Abbiamo cercato di rispettare quello che è il tema principale di Pesaro 2024, la natura della cultura, individuando degli appuntamenti che siano diversi anche per Target. In modo particolare abbiamo pensato a degli appuntamenti dedicati ai ragazzi con dei laboratori inclusivi che permettono ai ragazzi di capire l'essenza della natura e quindi di, come dire, sporcarsi le mani nel conoscere le piante, nel conoscere il loro valore e nel conoscere la loro importanza anche dal punto di vista naturale e culturale. Da lì proseguiamo anche con degli spettacoli. In modo particolare avremo Amelin, che è uno spettacolo che è stato premiato nel 2023 come miglior spettacolo per le nuove generazioni, che si ispira alla vecchia favola del pifferaio magico. E poi collaboreremo con delle associazioni culturali del luogo che promuoveranno un incontro diretto alla poesia e alla lettura strettamente legata all'identità del territorio per poi concludere con degli spettacoli musicali al Teatro del Trionfo e degli spettacoli nei luoghi che noi abbiamo chiamato di segreta bellezza perché sono quei luoghi dove solitamente vi è la produzione delle nostre eccellenze neogastronomiche. Quindi metteremo a fattore comune anche qui musica ed eccellenze neogastronomiche. Per finire poi con Triunfo Gourmet, che è un pranzo spettacolo che si terrà domenica 17 novembre con la regia di Chef Stellati nel luogo del Teatro del Trionfo. Oltre alla mostra di Gesine Arp, che oggi qui era con noi, che torna dopo tanti anni al Teatro del Trionfo di Cartoceto. Cartoceto ha interpretato, credo, in maniera ottimale lo spirito della natura e della cultura e non poteva essere altrimenti, diciamo, per una realtà che ha sempre fatto della bellezza sia paesaggistica, legata anche all'agricoltura, alla cultura del paesaggio e architettonica come all'interno della settimana saranno previsti momenti che è sempre all'ordine provinciale degli architetti proprio per valorizzare il tema della bellezza dei borghi ma anche della vita e della vivacizzazione dei borghi e così come appunto la sintesi anche tra bellezza, natura, tecnica, arte che andiamo ricercando nei programmi della capitale della cultura rappresentata dal Teatro del Trionfo dove naturalmente c'è anche l'aspetto artistico, tecnico e dove sarà teatro di tanti appuntamenti di una settimana ricca che inizia con il coinvolgimento delle scuole come è bene che sia, anche e soprattutto per il trasferimento delle conoscenze, della passione a partire dagli elementi naturali, botanici fino a abbracciare tutte le arti dal teatro alla pittura, alla musica e quindi è una settimana intensa per cui ringrazio naturalmente l'amministrazione e tutti quelli che hanno lavorato da cartuceto a questo progetto che credo potrà rilanciare in maniera importante anche il progetto ancora più ambizioso di Capitale Europea 2033 Continuiamo a parlare di arte, tradizioni, cultura con Cartapesta, Carnevale di Fanno e il film ma prima di presentarvi l'ospite in studio partiamo da qui Stimulare attraverso le immagini il desiderio di riappropriarsi e di conoscere questo carattere identitario che è il Carnevale Vi rimmergerete in un'enorme emozione che vi riporterà quando avevate due anni Io credo che attraverso questo film una bella, buona e sana curiosità potrebbe emergere Un mischi uno, ch Minuten scharpe due Emozioni, ricordi e immagini inedite in questo docufilm che martedì sera è stato proiettato al cinema in anteprima per la stampa, le istituzioni e per tutti coloro che hanno collaborato questa pellicola che porta la firma del regista Andrea Lodovichetti. Benvenuto nei nostri studi. Grazie e buonasera a tutti. Quali sono state innanzitutto le sensazioni, le emozioni del pubblico presente in sala? Le emozioni del pubblico sono state quelle che abbiamo provato noi, nel senso di aver potuto condividere un'emozione comune. Noi personalmente, parlo al plurale perché parlo anche a nome dei miei coautori, Luca Caprara e Nicola Nicoletti, noi ci siamo realmente emozionati avendo percepito sulla pelle l'emozione del pubblico. Quindi per noi è stata una gioia enorme, immensa. Come e quando è nato il progetto? Il progetto è nato due anni fa per la nostra volontà, esattamente come per Pescamare, di raccontare un qualcosa che ci appartiene. E quindi di avere questa ambizione, che non è mai presunzione, di far conoscere, di condividere con chi non è al corrente qualcosa di bellissimo che ci riguarda. Quindi abbiamo il mezzo cinematografico, perché non tentare? Quante persone hanno collaborato al progetto? Per questo progetto, allora, direttamente hanno collaborato una trentina di persone. E io, non senza orgoglio, ribadisco sempre che sono tutte marchigiane e una buona parte delle quali sono fanesi. Quindi ancora più sentito è stato. Al di là di questi 30, 25, 30, 35 persone della Trout, ci sono tutti i fanesi che ci hanno dato del materiale di repertorio inedito. Infatti ricordo che proprio su Fanno TV aveva lanciato un appello per richiedere ai cittadini queste immagini inedite. Quanto materiale vi è arrivato? Noi facciamo questo appello chiedendoci tra noi, speriamo che qualcuno ci metta a disposizione, apriti cielo. Ci ha stupito il fatto che ci sono arrivate centinaia di ore di materiale, molto del quale inedito. Cioè persone che ci hanno affidato i loro ricordi, persone che hanno volutamente per questo progetto scartabellato scatoloni, cantine polverose e ci hanno dato questo materiale. materiale che spesso e volentieri neanche loro avevano mai visto, perché magari è girato dagli zii, dai genitori, dai nonni, informati per cui oggi è poco pratica la riproduzione. Parlo delle pellicole Super 8. Noi questa roba ce l'abbiamo perché i nostri concittadini ce l'hanno regalata. Più le tante testimonianze che avete raccolto. Più le tantissime testimonianze che abbiamo raccolto, e tutte convergeranno comunque in un contenitore molto più ampio, che sarà quello della fabbrica del Carnevale, parte delle quali invece sono anche confluiti all'interno del film. Quindi sì, tantissime testimonianze. C'è anche un bambino protagonista del film insieme al Voulon, ma vorrei chiedere qual è il suo primo ricordo da bambino del Carnevale di Fano e qual è la scena che le è rimasta più impressa? Sì, allora, il bambino Edoardo Davide Pignattaro, il giovanissimo attore per la prima volta sullo schermo, accompagnato da Simone Di Ottallevi, che a Fano è un attore ormai rodato, è un po' il pretesto narrativo che ci siamo inventati come Phil Rouge per raccontare tutta la storia. E noi siamo proprio partiti da noi bambini rispetto al Carnevale, noi autori, per cercare di imbastire una struttura che ci convincesse, soprattutto emotivamente. Per quanto riguarda me, io ho due ricordi in realtà del Carnevale. Il primo che mi viene in mente non è legato alla sfilata, ma è legato a un giovedì grasso. A un giovedì grasso all'epoca, non ricordo quanti anni avessi, ma credo terza, quarta elementare, qualcosa del genere, con mia madre, vestito da carcerato, questo me lo ricordo bene, con un vestito fatto da mia nonna, insomma, di tutto questo mondo di un'epoca che forse non c'è più, e vinsi, non mi ricordo di quale concorso si trattasse, il primo premio per la miglior maschera, con questo vestitino da carcerato. Un altro invece, però, ero più grandino, perché il carro è dell'89, il famoso e pluricitato drago, che vediamo anche nelle immagini, che vediamo anche nelle immagini, e che uno dei carristi di oggi racconta e dice io quando avevo tre anni questo drago mi ha cambiato la vita, io di anni non ne avevo tre, ne avevo tredici, e non mi ha cambiato la vita, però per me il carro del Carnevale di Fano è il famoso drago del 1989, riproposto anche l'anno successivo. Quando il pubblico potrà vedere Cartapesta? Il pubblico potrà vedere Cartapesta a partire da domenica, quindi manca pochissimo, da domenica nei cinema della città, per il momento, quindi Masetti, Politeama e Giometti, cinema, con orari e programmazione che ogni cittadino, consultando i siti dei rispettivi esercenti, può vedere gli slot e tutti gli orari. Abbiamo uno sguardo anche al futuro, abbiamo parlato prima di bambini, coinvolgerete le scuole in qualche modo? Sì, questa è una cosa molto importante, perché l'assessore Santorelli ha avuto questa, io trovo un'ottima idea, che nell'ambito del Carnevale 2025, all'interno del quale il nostro film verrà ovviamente riproposto, con formule e idee su cui già stiamo pensando, ma non possiamo svelare di più, però l'assessore Santorelli ci teneva, e si farà, che il film fosse proiettato per gli studenti delle scuole di Fano, perché c'è un forte legame, e anche poi per chi vedrà il film capirà, tra quello che è il passato, che si traduce in presente, ma che soprattutto si rilanci nel futuro. Insomma avete ancora tanto lavoro da fare, ma c'è qualche aneddoto, qualche curiosità, che possiamo svelare al nostro pubblico? Ma gli aneddoti in realtà sono tantissimi. O anche qualcosa di dietro le quinte. Sì, no, vorrei permettermi di dire questo piccolo aneddoto, che è legato alla proiezione che c'è stata poco fa, quella, diciamo, a porte chiuse per stampa, istituzioni ed addetti ai lavori. Mi è arrivato un messaggio della figlia di uno degli storici carristi di Fano, che mi diceva che al termine della proiezione il padre si è voltato immediatamente, appena sono accese le luci, guardando un collega, quindi un altro dei carristi storici, e rivolgendosi a lui, gli ha detto, proprio in fanese, e così lo riporto virgolettato, oh, è proprio bel. Al di là della fanesitudine, quello che a noi autori fa veramente piacere, ha fatto veramente piacere di questo messaggio, che al di là della restituzione dell'affetto dei nuovi carristi, anche da parte dei vecchi carristi, per i quali il carnevale è una cosa sacra, hanno trovato, perlomeno io credo, nel nostro lavoro, un'onestà intellettuale, che è quella che noi ci premuravamo di avere, evidentemente pare che ce l'abbiamo fatta, e questa per noi è una soddisfazione enorme. Intanto diamo un altro piccolo regalo ai nostri telespettatori, perché dopo il telegiornale trasmetteremo uno speciale anteprima, un video di circa sette minuti, giusto? Che avete proiettato soltanto a Roma. Sì, è un video inedito che abbiamo realizzato ad hoc nel momento in cui ci hanno invitato a Roma per la presentazione di questo film, che è un breve filmato, che ovviamente il film dura un'ora e quaranta minuti, questo è un filmato di sette minuti, all'interno del quale abbiamo cercato, ovviamente per sommi capi, di raccontare quello che più o meno, secondo noi, è l'anima di quello che tutti i fanesi e non potranno vedere a partire da domenica mattina nei cinema della città di Fano. Colgo l'occasione anche per ringraziarvi di questa collaborazione con Fano TV, di cui ne siamo veramente fieri e orgogliosi. Fano TV è il media partner del progetto, ci siamo sempre dati una mano e questo è molto importante, come ho già detto anche nella presentazione. Un giornalista scrisse, riferito a questo film, nel film del Carnevale di Fano vince la città, perché è veramente una sinergia assoluta tra quelli che hanno fatto il film, quelli che hanno contribuito a fare il film, quelli che hanno fatto in modo che il film si facesse e quelli che hanno dato qualsiasi cosa affinché il film potesse avere quel quid che fa dire siamo di Fano, sì, siamo ambiziosi, sì, siamo vuloni, sì. Sì, un film della città per la città. Assolutamente. Grazie ancora regista Anise Andrea Lodovichetti, noi andiamo avanti con il nostro telegiornale e in particolare con il progetto nazionale intitolato Ciascuno a modo suo, tratto da un testo di Luigi Pirandello che il 16 e 17 novembre farà tappa a Fano, anticipato da uno spettacolo di danza venerdì 15. Coinvolti nell'opera anche gli attori della compagnia teatrale Ex Novo. Dopo che lui fece la presentazione di lei alla famiglia, in accordo con la madre... Ciascuno a suo modo una frase emblematica di Pirandello che da titolo a un progetto, è un progetto che riguarda la Human Library ma anche teatro. Di che cosa si tratta? Questo testo che Pirandello ha scritto anzi esattamente cento anni fa parla dei punti di vista. Ciascuno può cambiare idea se conosce o meno insomma la realtà così com'è, non così come sembra o così come viene raccontata dagli altri. Quindi noi abbiamo approfittato di questo centenario del testo per rimettere in scena questo spettacolo che non è molto spesso rappresentato e nello stesso tempo mettere insieme l'idea delle Human Library, cioè racconti di storie, di persone del territorio, dei vari territori nazionali in questo preciso, ovviamente, territorio fanese per raccontare delle storie che altrimenti andrebbero perse nell'oblio probabilmente. Quindi è una tappa di un circuito che si fa a livello nazionale? Sì, siamo molto contenti che Fano sia una delle città, delle sei città, di sei regioni diverse prescelte per questo progetto. Abbiamo avuto un'accoglienza straordinaria sia in termini di partecipazione delle Human Library ma anche come accoglienza da parte delle istituzioni e dei privati che ci hanno sostenuto in questo. E quando avrà luogo lo spettacolo e dove? Lo spettacolo avrà luogo il 15, 16 e 17, adesso di novembre. Il 15 ci sarà una anteprima in piazza con uno spettacolo di danza e poi il 16 e il 17 alla loggia di San Michele qui a Fano, vicino all'arco di Augusto, invece sia lo spettacolo teatrale e che le Human Library che precederanno e diciamo seguiranno lo spettacolo stesso. E chi lo interpreterà? Lo spettacolo è interpretato da alcuni attori della compagnia Ex Novo di Fano che sono mischiati con la compagnia monolocale di Roma quindi questa rete di collaborazioni che è un po' l'imprinting del nostro lavoro di Oltre le Parole dove cerchiamo di mettere appunto in connessione persone, associazioni, istituzioni con l'intento che fare... con l'intento e l'obiettivo di fare rete appunto per migliorare il nostro... il nostro lavoro e la nostra società se possibile. La bigliettazione? È tutto gratuito grazie a un co-finanziamento del MIC, del Ministero della Cultura e agli sponsor, alle istituzioni locali che si sono rivelate molto attente quindi a differenza di altre città dove abbiamo potuto fare soltanto una replica in questo caso grazie anche alla Regione Marche insomma abbiamo potuto moltiplicare gli avvenimenti, le attività e tutto gratuitamente per i cittadini. La combattente di Fano società affiliata alla Federbocce è stata insegnita del collare d'oro al merito sportivo. Si tratta del secondo riconoscimento nei confronti di una società boccistica dopo quello conferito nel 2020 all'Associazione Bocciofila Savonese. Nell'anno in cui celebriamo i 100 anni di storia ha dichiarato il Presidente Andrea Serafini subentrato da pochi giorni a Luciano Gasparelli abbiamo l'onore della massima onorificenza del CONI. Questa assegnazione ci riempie di orgoglio e onora la nostra storia centenaria di sport dilettantistico agonistico e di prestigiosi risultati sportivi ma anche di impegno sociale e di inclusione. Ringrazio il Presidente Federale De Santis per aver proposto la candidatura della società e il Presidente regionale Corrado Tecchi. La cerimonia di consegna si svolgerà il 16 dicembre agli 11 a Roma presso l'auditorium Parco della Musica alla presenza della Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni. E rimanete sintonizzati su Fano TV perché come vi abbiamo accennato subito dopo le previsioni del tempo trasmetteremo lo speciale anteprima del film sul Carnevale di Fano Carta Pesta grazie per aver seguito Occhio alla Notizia e buona serata sul canale 19 del Digitale Terrestri. Grazie a tutti i nostri spettatori Grazie a tutti i nostri spettatori